allora ho deciso di creare questo canale solo per le recensioni lego visto che le avevo un po abbandonate che mi sembravano un po fuori logo nel canale quello invece classico in cui si parla soprattutto dei videogiochi comincerò questo weekend con la recensione dello space shuttle che ho appena terminato dopo di che caricherò le vecchie recensioni sono ben 27 con tutti i set precedenti che erano già stati pubblicati sul canale di Vito Iuvara ma ci sono anche da aggiungere in mezzo a queste le recensioni dell'anno scorso di tutti i set importanti che ho comprato e che non ho recensito come la Lamborghini Sian il pianoforte il Ness l'Ecto One il Batwing la Porsche insomma ce n'è veramente tanto 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 da pubblicare e lo farò a breve adesso vediamo che modalità pensavo di metterne una nuova una vecchia a distanza di 3 4 giorni e magari portare pazienza all'inizio finché sta situazione non si stabilizza e non riesco a portarle tutte la qualità delle vecchie sarà ancora peggio del solito perché non ho ovviamente conservato nulla ho scaricato il video da youtube e sto ricaricando quello e basta e quindi sarà un 720p credo non di più ma vabbè le quelle migliori neanche troppo in realtà saranno le nuove ciao a tutti grazie